Buongiorno, sono Tommaso Baschera della FEBUS SPA di Milano, di cui sono responsabile vendite. Quest'anno qui all'ISE di Amsterdam stiamo vedendo una ampia evoluzione e un crescente interesse sui sistemi di voice evacuation nel mondo appunto del public address che anche la nostra azienda come distributore della multinazionale giapponese TOA per l'Italia sta seguendo in modo sempre crescente. In particolar modo la novità più importante di questi ultimi mesi è l'introduzione in Europa delle normative N54 per i sistemi di audio allarme, quindi la N5416 per i sistemi di gestione, la N544 appunto per gli alimentatori di questi stessi sistemi è la N5424 per gli altoparlanti. Rispetto a un anno fa sicuramente la novità più interessante è l'aumento del numero di altoparlanti certificati N5424 dove fino a poco tempo fa tutte le case produttrici avevano pochissimi modelli con questa certificazione, oggi il nostro catalogo ad esempio TOA ne ha più di 20 modelli per soddisfare esigenze di tutti i tipi, quindi da impianti di tipo industriale anche a impianti con un audio che oltre a fare le funzioni di allarme è anche un audio più di alta qualità. Ma ecco appunto le tendenze di mercato, sicuramente in quest'ultimo periodo in Italia e in tutta Europa il mercato non sta attraversando un momento facile per ovvie ragioni, però appunto l'introduzione di queste nuove normative sulla sicurezza sta portando un po' a una controtendenza positiva perché appunto dove prima si montavano sistemi di PA tradizionali quindi senza particolari funzionalità tecnologiche volte alla sicurezza, oggi invece i progettisti richiedono che i sistemi siano conformi alle normative per la sicurezza e quindi si stanno progettando e installando sistemi di qualità più elevata, quindi anche in un momento generale di contrazione di mercato questo invece sta sicuramente aiutando a fare sistemi di qualità superiore, perlomeno dal punto di vista della sicurezza.